Dino, amico mio, ti stavo cercando. Che cazzo vuoi, Schillinger? So che hai pestato Billy Keen. La fratellanza ariana ti è grata. Ma guarda. Cercavo di tirarti su. Non ne ho bisogno. E allora vaffanculo. Vaffanculo tu. Quello che è successo tra me e quel finocchio non c'entra niente con la vostra merdosa fratellanza ariana. Quindi alza le chiappe e togli ti dai coglioni. Stupido, mangia spaghetti. Tonta! Mangia spaghetti, finocchio, rotto in culo, ebreo, muso giallo, afro. Parole. Le parole sono armi, anche se preferirei avere un bel mitra tra le mani. Alcuni detenuti dicono che è la violenza la cosa peggiore che dobbiamo affrontare. Per me, qui dentro, la cosa peggiore è la noia. Come si fa a riempire queste cazzo di giornate tutte uguali? Abbiamo questa routine che alla nostra vita dovrebbe dare ordine e senso. Ma io vi posso assicurare che ho meno paura di essere pugnalato tra le scapole che della routine. Perché la routine... Cazzo, la routine uccide!